. Torino, brutta sconfitta contro la Juve. Mihajlovic, K o da dimenticare. Non commento l-039.Espulsione. . 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 Non è voluto venire a parlare con la stampa. Sta crescendo, diventerà forte. Proprio Baseli ha espresso tutto il suo rammarico per l'espulsione, voglio chiedere scusa a compagni tifosi. So quanto ci tengono, non avrei dovuto fare un intervento così. L'abbiamo preparata bene ma questo episodio ci ha condizionato, mi dispiace non avremmo dovuto giocare una partita così. Il centrocampista analizza poi quanto accaduto in campo, il contatto non mi sembrava così tanto da giallo. Meritavamo di giocarcela in 11 contro 11. Non ho ancora parlato con Mihailovic, il campionato è lungo dobbiamo guardare avanti.